Il nostro regine alla reggia di Venaria, Massimo Grosso, come vai quest'oggi avete esposto queste bellissime lancia integrali? L'occasione era quella di aver invitato dei giornalisti di fotografi anche dall'estero e dovendo scegliere Venaria ha offerto una location magnifica per ospitare quella che era un'occasione secondo me unica perché le quattro Lancia Delta che hanno vinto il campionato del mondo dal 1987 al 1992 tutte insieme è sicuramente un'occasione unica, rara sicuramente e quindi noi abbiamo scelto Venaria e devo essere sincero l'ho scelta perché sono nato e vivo a Venaria e mi faceva piacere fare questa cosa da appassionato per i miei concittadini e penso di aver fatto qualcosa di interessante e che non si vede tutti i giorni. Massimo Grosso, sempre in prima linea organizzare i regni, che cosa è cambiato dal rally della Lancia Integrale a quello di oggi? È cambiato molto, diciamo che qui quando parliamo di rally campionato del mondo era un momento quello della Lancia Delta dove l'orgoglio italiano era in massimi livelli perché la Lancia Delta dal suo debutto del 1987 alla rally di Monte Carlo con la prima Lancia Delta che vedete qui esposta e la 4WD seppe comunque conquistare il mondo e anche conquistare il cuore degli italiani perché parliamo di un appassionato di automobili, di rally, vedere una vettura italiana in cima al tetto del mondo è sicuramente una grande soddisfazione. Vogliamo ricordare i piloti di queste autovetture? Beh, Michi Biasion su tutti, Michi è stato il simbolo perché è un pilota italiano ma Juha Cancunen, Didier Uriol, Erito Ivonen, indimenticabile Erito Ivonen, Attilio Bettega diciamo che sono tutti i piloti che hanno contribuito sicuramente al successo della Lancia e del Made in Italy. Non solo Lancia Integrale a quest'oggi? Lo permetteva di non presentare soltanto le Lancia ma avere l'occasione di avere una Lanciarelli 037 peraltro ufficiale e una Lancia Stratos poteva essere sicuramente un'occasione per esporre ancora di più il Made in Italy. La magnificenza della Lancia davanti alla magnificenza sabato. Ecco, questa è stata l'idea che mi ha spinto a scegliere naturalmente anche Venaria. Devo essere sincero, di questo io voglio ringraziare l'assessorato della cultura e soprattutto l'ufficio Eventi perché è stato davvero al mio fianco nella preparazione di un evento che portare le macchine sembra semplice ma portarle in una location come Venaria su una piazza se non hai un appoggio diventa molto molto difficile e io in questo voglio ringraziare prima di tutto l'assessore D'Afflitto e il suo staff che mi sono stati vicini questi giorni. Andiamo a presentare l'ospite anche. Sì, è un ospite d'eccezione che ci ha fatto davvero molto molto piacere perché abbiamo qui con noi Mirella Biniturso che era la segretaria di Giorgio Pianta ai tempi dell'Avart e dobbiamo dire con molto piacere ci ha raggiunto lei che ha vissuto l'epoca di queste vetture quando queste vetture vincevano e quindi eravamo un team vincente, vero Mirella? Eh sì, sempre, devo dire sempre vincente, da quando si progettavano, io sono nata praticamente in repartorelli con la 37 e quindi è onestamente quella che è messa più nel cuore perché l'ho vissuta di più, però insomma quando sei lì vivi tutto dalla A alla Z insomma. Vuoi raccontare un elettro? Lo posso fare io perché c'è una cosa che abbiamo raccontato prima perché dicevamo ed è una cosa che mi piace da matti che non soltanto lavoro e tecnica perché Mirella in Abarth ha conosciuto anche il suo compagno della vita, è vero Mirella? Sì. Che è qui, io vorrei che ci raggiungesse un istante perché anche lui all'interno della squadra Abarth è nato un amore che dura da una vita, è vero? Eh piuttosto, più di 50 anni. Cosa era l'Abarth in quei tempi? Era un ambiente alquanto difficile da certi punti di vista perché bisognava essere sempre attenti a tutte le espressioni diciamo di idea del signor Abarth, il quale era un personaggio molto ma molto diciamo preparato tecnicamente, molto bravo commercialmente ma contemporaneamente era come un ufficiale dell'esercito tedesco e così si comportava anche se non ha mai fatto il militare, questo è una cosa, era un ambiente diciamo disciplinato, un ambiente dove la collaborazione era quasi obbligata perché se non collaborava saltava, c'è idea da fare, questo era scontato. quindi abbiamo visto tutti, abbiamo imparato tutto quello che diciamo ci ha insegnato perché era anche uno che sapeva metterla di fronte ai problemi e doveva risolverli e nei tempi che lui stabileva, quindi era molto ma molto esigente sotto tutti i punti di vista, grande persona. Mirella, l'ultima domanda, allora vogliamo un tuo parere su questo evento, portare le Lancia Delta in un posto un po' incantevole come la reggia di Venaria. Eh beh, insomma, è un onore che il proprietario ha fatto alla Venaria perché effettivamente tutti vengono a Venaria per vedere grandissime opere d'arte, la reggia di per sé ma un ragazzo è arrivato e fa ma di queste macchine di chi sono? E come mai sono qua? Perché io abito lì, non le ho mai viste, non lo sapevo nemmeno, meno male, fino a che ora ci siete? Io dico, ma fin verso le sei, ah meno male che allora sono venuto ma non era un ragazzino, era un signore e quindi insomma è una bella cosa e comunque sarà, il proprietario sarà nella sua vita sarà ben contento di avere questo ricordo perché a Venaria non è che ci si arriva così si mette lì la macchina, si fa la fotografia e se ne va. Poi siete stati tutti molto carini, mi avete invitato a venire e noi siamo venuti molto volentieri perché per noi l'Abarth, da Carlo Abarth fino al 94 è sempre stata Abarth nel cuore in tutti i sensi, corse, non corse eccetera, quindi siamo fedeli. Poi io sono anche uno scorpione di novembre e quindi abbiamo fatto, abbiamo fatto bingo, grazie, grazie molto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.